Così mi ha conquistata Albano. Verissimo. Romina Power vuota il sacco. Confessione clamorosa. Romina Power. Ospite di Silvia Toffanina Verissimo. Ha raccontato un po' della sua carriera ma anche della sua vita privata con Albano Carrisi. Albano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, del mondo del cinema e della musica non solo italiana ma mondiale. I due si sono conosciuti quando erano giovanissimi e si sono amati follemente fin da subito. Hanno vissuto una storia d'amore importantissima e infatti insieme sono anche convolati a nozze e sono diventati genitori. Il loro matrimonio è entrato in crisi quando, dopo gli inizi degli anni 90, la loro primogenita Elenia è scomparsa all'improvviso. Mentre Albano dopo anni decise di rassegnarsi alla perdita di sua figlia, Romina era convinta che fosse ancora viva. Questo disaccordo tra loro ha portato una crisi davvero difficile da arginare. Verissimo! Albano Carrisi e Romina Power Un amore senza tempo Romina e Albano hanno continuato a volersi bene in tutti questi anni. Ah verissimo! Romina! Oggi è tornata a parlare di questo amore che l'ha accompagnata per tutta la sua vita. Romina non ha mai dimenticato Albano. Si sono sempre voluti bene e infatti negli ultimi anni sono tornati a cantare insieme per regalare al loro pubblico un po' di quella musica che li ha accompagnati per generazioni e generazioni. Oggi, a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, Romina è tornata a parlare di questo grande amore. L'unico che ha vissuto e che le ha fatto battere il cuore in tutti questi anni. Albano mi ha conquistata con le sue canzoni, ha raccontato alla padrona di casa. Con una grande emozione. Infatti Romina non ne ha mai fatto segreto. Non ha mai dimenticato Albano in questi anni e avrebbe avuto piacere di riconciliarsi insieme a lui. Grazie. 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 Grazie.